La caronnese è un avversario che tu conosci particolarmente, anche lo Bosco e Bregliano. In passato l'avete affrontata, a che avversario vanno? La caronnese da anni ha sempre costruito squadre molto competitive. Noi qualche anno fa abbiamo fatto i play-off con un incontro di loro. Sicuramente è una buona squadra che ha buoni giocatori, Porcino, Scaringella, Corno, quindi ha giocatori importanti di categoria. Sicuramente è una squadra che fa parte del gruppetto delle squadre forti, però noi non abbiamo paura. Andiamo a giocarci la nostra partita alla grande. Siete un gruppo molto unito, si vede fin dal ritiro. Ti aspetti una forte partenza della tua squadra? Mi aspetto una partenza giusta. Io ho sempre parlato che la mentalità è una delle cose più importanti. Una squadra che ha coraggio, ha forza, ha voglia di dimostrare il proprio valore. Però, come dico sempre, l'indice di rotazione dà sempre il campo. Quindi noi da domani sono anche curiosi di capire la forza della mia squadra. Abbiamo fatto tante partite fatte bene, però la forza della squadra trova da domani la partita in campionato, dove in paglia ci sono i punti e quindi è importantissimo partire bene. Ultima cosa, recuperi tutti. Anche Manes dovrebbe essere a disposizione. C'è qualche defezione, ma tutta la rosa a disposizione. No, no, no. Per fortuna abbiamo tutti a disposizione. Abbiamo fatto un precampionato con un po' di problemi su Spinosa, ultimamente con Manes, Gagliardini in passato. Quindi domani sono tutti disponibili e pronti a darmi una mano, sia a chi gioca dall'inizio che a chi entrerà dopo.